tre punti fondamentali venivamo da un periodo non facile e oggi ce lo siamo detti dovevamo dar tutto anzi anche doveva andare qualcosa in più primo tempo ce la siamo giocata sono tempo abbiamo tirato fuori qualcosa e siamo molto contenti ci ho creduto fino in fondo sono molto contento del gol e che sia servito per i tre punti l'esultanza è venuta da sé nel senso ho visto lì tutti i tifosi e quindi sono corso verso di loro perché se lo meritano anche oggi erano in tantissimi c'è un sostenuto 90 minuti e ci sta se lo metto e di certo non dobbiamo fermarci qua sono tre punti fondamentali però andiamo avanti così e adesso pensiamo a modena sempre più carichi